Continuiamo con l'analisi di configurazioni magnetostatiche, ci studiamo il cosiddetto solenoide toroidale. È un solenoide, quindi un avvolgimento elettrico intorno ad un nucleo cosiddetto di materiale ferromagnetico, quindi una struttura fatta di materiale ferromagnetico assumendo che la sua permeabilità sia molto maggiore di quella dell'aria, anzi assumiamo che sia talmente maggiore da poterla ritenere infinita. La corrente che si avvolge in queste spire, che scorre in queste spire, creerà un campo magnetico, nell'ipotesi in cui ci siamo posti, cioè nell'ipotesi in cui mu possa essere ritenuta infinita, il campo magnetico trova un cosiddetto tubo di flusso, quindi il toro di materiale ferromagnetico costituisce un tubo di flusso per il campo magnetico. E quindi siamo nelle condizioni in cui possiamo modellare il problema magnetostatico utilizzando l'equivalente elettrico. E quindi se voglio calcoarmi il flusso di B potrei risolvere un problema elettrico equivalente nel quale la forza magnetomotrice venga associata ad un generatore ideale a cui ampiezza n volte la corrente, dove n è il numero di spire, la variabile equivalente alla corrente è il flusso del campo magnetico ad ogni sezione, il pezzo di ferro di lunghezza L e sezione S viene modellato con la sua cosiddetta riduttanza. la riduttanza magnetica sarà uguale a L diviso mu per S, dove L è la lunghezza e qui come lunghezza cosa prenderemo? Prenderemo la circonferenza media, la lunghezza della circonferenza media di questo toro, di questo ciambellone. S è la sezione e mu è la permeabilità. Ovviamente se considerassi mu infinita la riduttanza sarebbe zero, quindi noi assumiamo mu molto elevata, infinita rispetto a mu zero ma non poniamo il limite per mu che tende all'infinita altrimenti il problema dal punto di vista circuitale è mal posto, come sapete. Bene, il circuito elettrico equivalente al problema magnetico, il problema magnetostatico ci consente di ricavare Fi facilmente, risolvendo il circuito, Fi sarà Ni diviso R. Quindi sarà Ni per mu per S diviso L, da cui ci possiamo ricavare il campo magnetico B, che non è altro che il flusso diviso la sezione. E quindi sarà Mu Ni diviso L, oppure il campo di induzione magnetica B, oppure il vero e proprio campo magnetico, che non è altro che B diviso Mu, e quindi Ni diviso L. Quindi in una struttura del genere, molto semplice di ricavarsi B e H, H per inciso e anche B, è lo stesso campo che abbiamo trovato nel suo enoide rettilineo di lunghezza L avente N spi. La differenza è che in quel caso, su enoide rettilineo, abbiamo dovuto introdurre un'approssimazione, perché la struttura non è infinita, quindi abbiamo dovuto troncare e abbiamo dovuto imporre che ci fosse un rapporto d'aspetto tale per cui gli effetti di troncamento fossero trascurabili. Questa invece è una struttura perfetta da questo punto di vista. In pratica immaginate come se avessimo preso quella barretta, l'avessimo piegata e chiusa su se stesso. Qui non c'è nessun effetto di approssimazione di troncamento, perché il campo è tutto confinato all'interno e non avete necessità di introdurre alcuna approssimazione. Questo è un modo molto frequente di realizzare gli induttori e poi vedremo lo vedremo nella realtà. Bene, cosa vi faccio osservare? Se vogliamo calcolarsi l'induttanza di questa struttura, dobbiamo applicare la definizione. L'induttanza per definizione sarà il flusso del campo B concatenato con il solenoide diviso la corrente che ha generato quel campo. abbiamo già fatto osservare nelle scorse lezioni, questo phi n non è la soluzione del circuito elettrico, perché la soluzione del circuito elettrico ci dà il flusso ad ogni sezione. Questo è il flusso concatenato con l'intero solenoide, che possiamo approssimare come n spire planari sovrapposte e quindi sarà n volte il flusso calcolato precedentemente. Quindi avremo n phi diviso i e quindi n quadro mu s diviso l, e cioè la stessa formula che abbiamo ottenuto nel caso di solenoide rettilineo. Esattamente la stessa formula. Bene, adesso facciamo un passo indietro. Io vi introdotto i materiali ferromagnetici dicendovi abbiamo assunto un legame molto semplice tra i due campi B ed H. Tutti i materiali che consideriamo in questo nostro corso hanno questo tipo di legame, i materiali ferromagnetici rispetto agli altri materiali dotati di proprietà magnetiche, ad esempio i cosiddetti paramagnetici, diamagnetici, i ferromagnetici si caratterizzano per una mu molto elevata, che può essere migliaia o decine di migliaia di volte la mu zero. E questo ci conferisce una serie di proprietà tra cui la possibilità di usarli come tubo di flusso, quindi per intrappolare il campo magnetico e fargli seguire una direzione prefissata, come stiamo vedendo dagli esempi. In realtà i materiali ferromagnetici hanno un comportamento molto complicato e solo in condizioni particolari può essere approssimato con questa semplice legge di proporzionalità. E allora come faccio a studiarmi il comportamento di un materiale ferromagnetico? Immaginate di usare un provino del genere, quindi di prendere un pezzo, una ciambellina di materiale ferromagnetico, di avvolgergli intorno N spire e di far circolare corrente. Adesso dalla corrente voi siete in grado di imporre un certo campo H, visto il legame che c'è tra corrente e campo magnetico. Immaginate un esperimento in cui voi iniettate corrente e misurate il flusso indotto da questa corrente. In realtà, mentre ovviamente concettualmente è semplice immaginare come faccio ad iniettare corrente, collego con un gelatore di corrente e inietto corrente in questa struttura. Misurare il flusso è un po' complicato da intendersi. In realtà, come vedremo nelle prossime lezioni, il flusso è legato alla tensione ai morsetti. In particolare, vedremo che il flusso di B è legato all'integrale nel tempo della tensione. Questo lo vedremo nelle prossime puntate, tra virgolette. Quindi, cosa sto dicendo? In realtà, da operazioni che potete fare ai morsetti di questo bipolo, vedete, io ho due morsetti. A questi morsetti posso iniettare la corrente e leggere la tensione. Iniettando la corrente significa sto imponendo H, leggere la tensione significa sto misurando FI, e quindi B. Questo, in linea di principio, è un modo per misurare la cosiddetta reazione costitutiva, cioè al variare di H come varia B. Quindi, concettualmente, io posso far variare H facendo variare la corrente e vedere la risposta in termini di B misurando la tensione, in particolare integrare nel tempo della tensione. Bene, se vado a fare questa operazione, mi accorgo che i materiali ferromagnetici si comportano in maniera molto strana, molto particolare. E allora, mettiamo su un piano cartesiano H e B. Supponiamo che i due vettori siano allineati, anche questo è già di per sé una grossa approssimazione. Cioè, stiamo dicendo che il legame tra B ed H è un legame tra i moduli, e che B e H hanno lo stesso verso le stesse direzioni, in realtà potrebbe anche darsi che il campo H abbia una direzione e il campo B un'altra. Nel qual caso, quella mu, per esempio, diventa una matrice, tecnicamente un tensore. Ruota il vettore. Escludiamo questa situazione. Supponiamo di avere un caso semplice in cui il legame è tra B modulo e H modulo. Tuttavia, potrebbe capitare, anzi capita quanto segue. Immaginate che il materiale all'istante iniziale sia a riposo. Come vedremo, questo significa che non c'è energia immagazzinata in questo pezzo di ferro. Quindi, H uguale a 0, B uguale a 0. Partiamo da qui. Se incrementate H, il materiale vi risponderà così. Vi risponde in un tratto lineare, fino ad arrivare a un punto in cui cambia pendenza e inizia ad assumere una pendenza via via minore. Oltre questo valore di H, la pendenza è costante ed è uguale a mu 0. Il coefficiente angolare, da questo punto in poi, è mu 0. In altre parole, per valori di H superiori a questo limite, che si chiama campo coercitivo HC, il vostro materiale qui risponde come il vuoto. Qualunque sto sia. Una volta che l'avete portato alla cosiddetta saturazione, si dice che il ferro si è saturato, quel ferro vi risponde come risponderebbe l'aria, il vuoto. Cioè, imponendo un legame pH, come se non ci fosse per, se fosse in aria. Quindi pura proporzionalità. B uguale a mu 0 per h. E questo è un primo risultato. Parto da qui, seguo quella che si chiama curva di prima magnetizzazione, si magnetizza il materiale, arrivo ad un massimo, che dipende chiaramente dal tipo di materiale, eccetera, eccetera, oltre il quale, se continuo a spingere con la corrente, e quindi con campo H, entro in un regime di saturazione, in cui il ferro non esiste più. Mi dà la stessa risposta dell'aria. La cosa interessante qual è? Che se adesso da qui torno indietro, inizio a ridurre la corrente, non percorro la stessa curva che ho percorso all'andata, ma ne percorro un'altra. Questo, per esempio. Io ho dato corrente, partendo da 0, cresce la corrente, cresce H, cresce B, e mi porto a lavorare in questo punto, oltre il quale ho il comportamento saturato. Se torno indietro, intanto non torno da qui. Percorro un'altra curva, non solo. Quando la corrente è stata portata a 0, e quindi il campo H è 0, il campo B non è 0. Ovviamente questo è assolutamente in contraddizione con una legge del tipo B uguale a M per H. Ovviamente. Cioè, esiste un campo residuo, OBR, che si chiama appunto magnetizzazione residua, che vi dice che quel pezzo di ferro si è magnetizzato, è diventata una calamita. Si è magnetizzato in modo permanente. Cioè, anche quando gli abbiamo tolto la corrente, che era la fonte di quel campo H, è rimasto un campo B. Quest'operazione si chiama magnetizzazione. Abbiamo scritto un campo. Poi vedremo che questo equivale ad associare energia che viene conservata sotto forma di energia del campo magnetico. Lo vedremo nella prossima lezione. Sta di fatto che io non sono tornato indietro nel punto di riposo. E ho lasciato la magnetizzazione al mio materiale magnetico. Se volete, ho scritto un settore dell'hard disk. La testina di scrittura ha una bobina. Iniettiamo la corrente. Creiamo il campo H. Scriviamo l'equivalente del bit che vogliamo lasciare scritto in quel settore. Che cos'è? Non è nient'altro che uno stato magnetico del settore dell'hard disk. E come faccio a far funzionare quella memoria? Deve funzionare proprio perché esiste questo fenomeno. Una volta che la testina di scrittura è passata, deve lasciare traccia in quel settore che è stato scritto un dato. E che cos'è il dato? È la magnetizzazione. È associata alla magnetizzazione. Se fossi tornato indietro qui non avrei scritto nulla. Gli avrei fatto fare un ciclo ma poi avrei lasciato inalterato lo stato del settore dell'hard disk per farvi capire a che serve questa magnetizzazione. Supponiamo di proseguire. Cambio verso la corrente e continuo ad alimentare. Stavolta con correnti negative. Seguo questo tratto e ottengo da parte opposta simmetrica rispetto a questo punto un andamento simile cioè arriverò fino al livello meno hc di campo oltre il quale anche qui la curva viene approssimata con una retta di coefficiente angolare mu zero. Bene, che succede se adesso io da questo punto in poi inverto di nuovo il verso di marcia torno a zero con la corrente e poi risalgo per correnti positive e che si percorre un ulteriore braccio che sarà simmetrico rispetto a questo cioè si farà qualcosa del genere per tornare qui. ho disegnato in maniera abbastanza simmetrica ma dovete immaginare che tipicamente questi quadranti sono simmetrici cercare di fare un disegno migliore di quello che ho fatto io anche se non è scusa la possibilità di avere cicli asimmetrici. Questo tipo di comportamento si chiama comportamento isteretico non isterico isteretico questo si chiama ciclo di isteresi. I materiali ferromagnetici quindi sottoposti a variazioni di corrente anche del loro segno compiono un ciclo di isteresi. questo è il cosiddetto ciclo limite cioè quello che si ottiene portando al massimo possibile i valori di campo oltre il quale c'è la saturazione quindi questa è la regione di saturazione questa è la regione di saturazione quello che accade è che se voi vi fermate prima per esempio di qua mi fermo qui e torno indietro questo percorrerà un ciclo innestato e così via in altre parole il ciclo che vi ho disegnato è quello limite ma all'interno se vi fermate prima e fate lo stesso tipo di esperimento percorrete dei cicli di area più piccola ovviamente ma innestati nel ciclo principale quindi vedete il comportamento il legame BH è molto complesso è un legame che non è facilmente inescrivibile con una funzione matematica e tra l'altro è un legame che ha memoria perché se io vi do un valore di H la soluzione di B potrebbe essere una qualsiasi questa 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 e da chi dipende qual è la soluzione fisica voi dovete conoscere dove eravate all'istante precedente se io stavo percorrendo la curva di prima magnetizzazione questa curva si chiama così perché la percorrete solo se il provino è a riposo non ha energia all'inizio dopodiché non ci tornate più su questa curva a meno che non lo demagnetizzate quindi se io sto qui e allora la soluzione fisica è questa ma se sto tornando da qui la soluzione è questa o non è questa quindi è un comportamento che ha memoria per sapere in quale ramo del ciclo mi trovo devo avere indicazioni su che cosa ho fatto prima altrimenti la come dire la domanda è mal posto non vi posso dire quale sono tutte soluzioni che matematicamente sono accettabili ma se non ho la condizione precedente non vi so dire qual è tra le soluzioni matematiche quella fisica ovviamente bene i cicli di stere si comportano hanno diciamo una serie di controindicazioni ma anche una serie di vantaggi il vantaggio diciamo principale che vi ho detto prima è che questi materiali sono quelli più naturalmente riendicati per realizzare delle memorie e non a caso i materiali magnetici sono quelli largamente utilizzati per le memorie a partire dalle vecchie cassette a nastro fino ad arrivare agli hard disk per esempio proprio perché è molto facile lasciare traccia quindi scrivere un dato semplicemente magnetizzando appunto un settore per esempio dell'hard disk tuttavia ci sono situazioni in cui voi volete che comportamento magnetico venga realizzato solo quando volete voi in altre parole ci sono applicazioni in cui voi non volete che resti una magnetizzazione permanente volete realizzare quello che si chiama elettromagnete ad esempio lo sfascio di carrozzo cioè l'elettromagnete quello dei film americani queste bestie elettromagnetiche che prendono un'automobile da una parte all'altra che cos'è quello è un magnete quindi è un oggetto con proprietà magnetiche che però voi dovete poter abilitare o disabilitare per prendere l'auto o sollevarla e poi rilasciarla se avesse questo comportamento una volta magnetizzato l'auto resta attaccata non c'è verso di smaterializzato e quindi tra i tipi di ferro tra i materiali ferromagnetici che vengono utilizzati si possono classificare due grandi si possono individuare due classi due grandi classi di materiali i cosiddetti ferri duri e i ferri dolci i ferri duri sono materiali adatti adatti a realizzare magneti permanenti quindi hanno una magnetizzazione residua molto elevata tipicamente un sito di stereosi molto largo vedete una BR molto elevata vengono vengono utilizzati per esempio per realizzare magneti permanenti magnetizzati una tanto in quel pezzo di ferro e poi diventa il magnete per le applicazioni che vi servirà nelle applicazioni invece tipicamente legate alle macchine elettriche come ad esempio trasformatori o i motori noi abbiamo bisogno di un'altra tipologia di ferro che si chiamano ferro dolce il ferro dolce ha un ciclo di stereosi molto stretto ed ha una magnetizzazione residua molto bassa immaginate qualcosa del genere vedete la magnetizzazione residua è molto bassa il che significa che se togliete la corrente togliete anche sostanzialmente le proprietà magnetiche e l'elettromagnete di cui vi parlavo prima tipiche applicazioni appunto di questi ferri oltre che come elettromagnete questo tipo di ferro viene utilizzato ogni volta che occorre realizzare circuiti magnetici nelle macchine elettriche ad esempio nei trasformatori ad esempio nei motori perché perché associate all'isteresi non c'è solo il problema di avere un legame BH molto complicato noi quando usiamo il ferro nelle applicazioni di cui abbiamo parlato prima sostanzialmente stiamo facendo un'approssimazione che è la seguente stiamo supponendo che il ciclo di isteresi abbia un'area praticamente nulla e stiamo approssimando tutto il ciclo con una retta vedete con una pendenza molto elevata ovviamente questa approssimazione vale solo in un intorno molto piccolo di H vedete questa è la regione di operatività in cui possiamo supporre ancora B uguale a mu per H in questa regione che sarà piccola grande questo può dipendere dal tipo di materiale allora immaginate che H venga fuori da un'alimentazione da una I che sia una sinusoide immaginate che la I che alimenta quella sinusoide sia una ITT una funzione sinusoidale che oscilla con una certa frequenza cosa significa che se andare a guardare nel tempo I oscillerà tra meno I massimo e I massimo con 50 cicli al secondo va bene allora se I oscilla a 50 Hz H oscillerà a 50 Hz perché H vi ricordo uguale N I diviso L e quindi H oscillerà tra un H minimo e un H massimo 50 volte al secondo se il vostro H massimo è questo vedete se siamo in un intorno sufficientemente piccolo e allora per quel tipo di applicazione effettivamente possiamo trascurare il vero legame di H di tipo esteretico e approssimarlo con la retta B uguale a muver H ovviamente ricordiamoci che è un'approssimazione perché se andate ad incrementare il campo H entriamo prima nella zona del cosiddetto ginocchio e poi nella saturazione quindi possiamo ancora utilizzare il nostro modello semplificato che ci consente di stimare le riduttanze con una mu di quel genere a patto che ci ricordiamo stiamo lavorando con correnti e quindi con campi H sufficientemente piccoli da non portare a saturazione il ferro altrimenti quella R è ancora vera ma lì c'è mu zero cioè è tra ferro prima considerazione seconda considerazione cosa accade durante un ciclo di steresi purtroppo l'isteresi non è a costo zero in altre parole se io oscillo 50 volte al secondo tra qui e qui significa che 50 volte al secondo si percorre il ciclo questo dal luogo a dissipazione di potenza di watt cioè il ferro assorbe è una parte dell'energia fornita dagli alimentatori e l'assorbimento del ferro le cosiddette perdite nel ferro che vedremo nella lezione sui trasformatori è proporzionale all'area del ciclo di steresi e quindi quando il ferro viene utilizzato come per esempio nei trasformatori semplicemente come strumento che ci consente di incanalare il flusso quindi non lo stiamo usando per farci le memorie magnetiche l'hard disk e compagnia bella ma come materiale che ci consente di reggimentare le vie di flusso di B e allora noi andremo a scegliere questo tipo di ferri perché ovviamente l'area sottesa a questo ciclo di steresi è molto più piccola e quindi le perdite associate ai cicli di steresi sono molto più contenute bene chiudo questa lezione sui materiali ovviamente diciamo non vi ho detto nulla della fisica del perché questi materiali si comportano così ma al di là diciamo degli obiettivi di questo corso è una questione legata a come si orientano a livello microscopico i cosiddetti domini magnetici in questo tipo di materiali volevo però farvi osservare quanto segue ho preso come esempio il caso in cui la I non sia una corrente costante ma sia per esempio una corrente sinusoidale abbiamo detto uno dei problemi in questo caso è che il ciclo di steresi viene percorso un numero di volte al secondo pari al numero di cicli e quindi se lavoro in alta frequenza la situazione ovviamente è peggiore da questo punto di vista in realtà c'è un'altra considerazione che volevo farvi molto importante dal punto di vista applicativo anche se poi noi daremo solo un risultato qualitativo è che la seguente in realtà se voi alimentate un oggetto del genere non più in condizioni stazionali ma in condizioni sinusoidali al crescere della frequenza accade accade un fenomeno molto molto importante ai fini pratici che è l'espulsione del campo di corrente e quindi del campo magnetico dall'interno del conduttore in altre parole quando abbiamo studiato quando abbiamo studiato il cavo percorso da corrente ricorderete abbiamo detto che a differenza del caso elettrostatico il campo magnetico penetra anche all'interno ricordate abbiamo ottenuto un campo magnetico in funzione del raggio R in coordinate cilindriche che cresceva linearmente da 0 fino ad A dove A è il raggio del cavo e poi abbiamo detto decadeva come 1 su R uscendo dal cavo questo significa che la corrente e il campo penetrano all'interno del conduttore questo è vero sicuramente in condizioni stazionali che l'abbiamo dimostrato in realtà cosa succede quando aumenta la frequenza il campo non è la corrente densità di corrente e quindi il campo non è più non utilizza non è più presente in tutta la sezione del conduttore ma solo in una sezione circolare una corona circolare la cui ampiezza è chiamata spessore di penetrazione in altre parole è come se al variare della frequenza io non avessi più a disposizione tutto il conduttore per la circolazione di corrente ma la corrente inizia a essere espulsa dal centro di questo conduttore e si inizia ad addensare in corone circolari il cui spessore è inversamente proporzionale alla radice della frequenza anzi per essere preciso lo spessore di penetrazione è uguale alla radice di 1 diviso pi greco f mu per sigma f è la frequenza mu è la permeabilità sigma è la conducibilità elettrica del cavo quindi vedete sia f che mu che sigma hanno lo stesso impatto su questo spessore in altre parole se voi prendete un certo tipo di cavo quindi conoscete la sua permeabilità magnetica mu conoscete la sua conducibilità elettrica sigma e aumentate la frequenza di utilizzo che succede che la corrente non invade più quando questo delta diventa minore di A ovviamente queste A quando lo spessore di penetrazione diventa minore del raggio il campo di corrente quindi il campo magnetico inizia ad essere espulsi dalla zona centrale del conduttore e questo fenomeno è tanto più vero quanto più alta è la frequenza per f che tende all'infinito la corrente è tutta superficiale non penetra più nel conduttore lo stesso vale se sigma tende all'infinito cioè la conducibilità parità di frequenza se prendete il conduttore e la sua conducibilità tende all'infinito il campo di corrente viene espulso e la corrente diventa tutta superficiale quindi come conseguenza il campo elettrico all'interno è zero ma questo lo sapevamo perché in un conduttore elettrico perfetto vi ricordate essendo il legame G uguale sigma per E se sigma va all'infinito E va a zero se volete E uguale è uguale G su sigma se fate tendere sigma all'infinito tende a zero non lo sapevamo è proprio la definizione di conduttore elettrico perfetto quindi un conduttore elettrico perfetto sappiamo già cosa farà G viene espulsa e diventa tutta superficiale il campo elettrico all'interno diventa zero la cosa interessante è che un conduttore può avere lo stesso tipo di comportamento anche se sigma non è infinita facendo crescere F quindi in alta frequenza si ha lo stesso tipo di problema allora questo è un effetto che si chiama effetto pelle tecnicamente o skin effect in inglese che da un nostro punto di vista crea voglio dire appunto questo elettrotecnico crea un bel po' di problemi e quindi quando si studiano si progettano si dimensionano le macchine elettriche gli avvolgimenti i cavi bisogna fare per bene i calcoli capire a che frequenze stiamo lavorando per evitare che ci sia l'effetto pelle perché banalmente se voi fate lavorare un cavo in condizioni in cui questo effetto è rilevante è come se voi avesse sprecato un pezzo di sezione adesso ricordatevi sempre che nei cavi la resistenza è L diviso sigma per S ma la sezione da usare qui questa formula non è la sezione geometrica è la sezione attraversata dalla corrente quindi se la corrente invade tutta la sezione del cavo mettete la sezione geometrica ma se siamo in queste condizioni S non è più uguale a pi greco a quadro sarà uguale a pi greco a quadro meno pi greco a meno delta al quadrato cioè dovete togliere questo pezzo centrale perché la corrente non si passa più quindi la sezione utile è minore avete un valore minore a denominatore a parità di cavo vi trovate una resistenza maggiore quindi dissipazioni maggiori quindi cadute di tensioni maggiori quindi io ho progettato il mio cavo ho usato un cavo da 16 millimetri quadri nella realtà me ne ritrovo 4 quindi ho sprecato cavo ho chiesto un ingombro eccessivo nella canalina perché ho alloggiato un cavo con un diametro assolutamente spropositato rispetto a quello che effettivamente può utilizzare la corrente quindi sono problemi di inefficienza di sprechi di potenze diciamo dissipate e l'altro problema non banale è questo se io nella mia resistenza ho l'effetto pelle non solo la resistenza è più alta ma la resistenza diventa funzione della frequenza perché la sezione frequenza per frequenza cambierà cambia lo skin effect cambia lo skin depth qui lo spessore di penetrazione cambia la sezione quindi S è funzione di F quindi la resistenza è funzione di F cosa significa avere una resistenza che è funzione della frequenza per esempio problemi di distorsione armonica quando il vostro segnale è fatto ricordate quando abbiamo sviluppato i segnali in armonica principale quando abbiamo parlato di spettro di un segnale se il vostro segnale è fatto di varie componenti uno a 100 hertz l'altro a 200 l'altro a 300 voi dovete ricostruire tutte le componenti allo stesso modo per fare una ricostruzione corretta del segnale ma quello a 50 hertz si troverà un po' di resistenza la componente a 100 se ne trova un altro quella a 200 un altro ancora è come se avessero usato tre canali indipendenti quando le andate a rimettere insieme non c'è più lo stesso peso reciproco delle armoniche e quindi il segnale ricostruito non è fedele questa si chiama distorsione armonica quindi voi qui non è solo un problema di efficienza in termini di potenza o di energia sprecata o di ingombro o di costo del materiale è anche un problema di cosiddetta integrità di segnale oppure qualità del segnale come la vogliamo chiamare su queste cose qui ho fatto solo un cenno quindi sono argomenti su cui non svilupperemo esercizi però chiudono in maniera rendono completa la trattazione almeno dal punto di vista dei fenomeni tutto quello che ci serve per studiarci i problemi magnetici quindi vi l'ho introdotti il livello di approfondimento che serve è questo qui ovviamente se su tutte queste cose come qualunque altro argomento volete approfondire ovviamente sarò lieto di darvi ulteriori indicazioni grazie grazie a tutti